Buongiorno, ben svegliati, buon sabato 2 settembre, siamo pronti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa per andare a sfogliare i giornali locali e nazionali, andare a vedere le principali notizie che riguardano soprattutto la nostra regione. Come di consueto partiremo dalle prime pagine, nella prima parte e poi nella seconda parte entreremo più nello specifico all'interno dei quotidiani che trovate già in edicola. Partiamo come di consueto con le prime pagine dei quotidiani di casa nostra, iniziando con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, Partendo dall'edizione di Pescara, per andare a vedere il titolo principale, controlli su sei palazzi a rischio, verifiche dell'Atera a San Donato, Gli sgomberati di Rancitelli che dicono basta hotel, adesso è il momento di darci una casa. In alto le questioni nazionali, Banca Italia, inchiesta sulla vigilanza, il governo Blinda Ignazio Visco, e poi per i vaccini arriva l'autocertificazione e dunque sarà più facile l'accesso a scuola. Scendiamo a centropagina per vedere la fotonotizia che ovviamente non può che riguardare gli incendi, è lo stato di emergenza in cui versa la nostra regione e anche i soldi che servono, servono 370 milioni per i danni a boschi, strade, allevamenti e aziende. Nelle cronache, siamo sull'edizione di Pescara e dunque ci concentriamo sul capoluogo adriatico, a Pescara aggredisce una famiglia in strada e viene fermata dai vigili. Sempre a Pescara, ditta lagata, H condannata al risarcimento. E poi la pagina dedicata allo sport, le parole del presidente Biancazzurro Daniele Sebastiani che dice le mie favorite per la Serie A. Si torna in campo per il campionato cadetto che prenderà il proscenio, visto che c'è la sosta delle nazionali, allora il presidente del Pescara ne approfitta anche per fare le carte al campionato. Per quanto riguarda le altre notizie che riguardano la nostra regione, dunque in Abruzzo, Isola del Gran Sasso, il comune si ribella, basta profughi. A Bussi invece Romandini trasferito in Corte d'Appello, il giudice di Bussi che si è occupato della discarica, del processo sulla discarica di Bussi. Per il trasporto pubblico, CGL, 4 ore di sciopero il prossimo 15 settembre. Dall'edizione di Pescara ci spostiamo su quella di Teramo, ovviamente cambia il titolo, ma anche qui sulla sicurezza degli edifici, in questo caso però si parla di scuole, si parte senza doppi turni, Teramo, le verifiche antisismiche bocciano solo la Fornaci-Cona, e ha trasferiti 170 alunni. Nelle cronache, ritorna la vicenda di Isola del Gran Sasso, il comune si ribella, basta con i profughi. Ci spostiamo a Giulianova, una colletta per recuperare il relitto dell'Eliana, che purtroppo fece due vittime, uno di questi è quello che vedete nella foto, Elia Artone e anche Carlo Mazzi, lo scorso fine luglio. Ad Alba Adriatica, ex assessore, insegue e blocca due ladri. E questa è la foto dell'ex assessore di Alba Adriatica, protagonista di questa vicenda, Cesare Di Felice. Altre notizie che non abbiamo visto nell'edizione appena scorsa del giornale, nella giunta regionale, mezzo milione sarà destinato ai centri anti-violenza. Adesso l'edizione dell'Aquila, è ovviamente provincia, che apre con gli affitti d'oro negozianti in fuga all'Aquila, poche attività nel centro storico, le storie di chi resiste, e di chi purtroppo invece ha dovuto mollare. All'interno, all'Aquila, sempre liceo Cotugno, si cercano aule anche all'interno dell'Ateneo Aquilano. E sempre nel capoluogo regionale, Raul Bova, molto noto, in campo per beneficenza. Ad Avezzano, Ridolfi, così renderemo invece sicure le scuole del centro marsicano. Come vedete, la questione scuole riguarda un po' tutta la nostra, il territorio regionale. Chiudiamo le prime quattro pagine con l'edizione di Chieti. Scopre ladro in casa e lo fa arrestare. Chieti, svegliata dai rumori, l'inquilina chiama i carabinieri. È davvero un allarme furti, quello che si registra in tutta la provincia. La vicenda d'Aico a Chieti, non si trova l'accordo sulla mobilità. E poi la crisi idrica. Sasi, l'acqua c'è ma non arriva nel Vastese. Guardia Grele, nessuno vuole portare a spalla la Madonna. Nella foto il priore Enzo Scioli. La prima pagina, cambiamo quotidiano adesso, del messaggero Abruzzo. Il titolo, roghi emergenza nazionale. La regione inoltre ha richiesto a Palazzo Chigi, 200 incendi in un solo mese. Il governo nominerà un commissario per valutare i danni, ma il fuoco, come vedete, avanza ancora. Nella foto le fiamme sul Monte Morrone. In alto Avezzano, raid dei ladri nelle case, rubata una pistola a una vigilessa. Per il lavoro dalle aziende, poche richieste di laureati e di diplomati. A Tagliacozzo, le minacce su Facebook finiscono in tribunale. In quattro avrebbero pubblicato il post. Sappiamo dove vivi, arriviamo. Per la procura si tratta di un reato e il processo si svolgerà il 12 gennaio. Di spalla, trasporti tua nel guado tra sciopero e uscita dalla Confindustria. Come vedete, la questione scuola ritorna anche sul messaggero. All'Aquila ritorno a scuola e la sicurezza diventa un rebus. A centro pagina, a Pescara. Pescara che cambia, previsti 2.000 parcheggi alle aree di risulta dal ponte Flaiano. Cronaca, giovane precipita nel cantiere, grave all'ospedale. All'Aquila l'operaio si è subito rialzato, poi il malore mentre stava tornando a casa. Quindi un poco dopo l'incidente. Per i libri, invece, i magnifici 5 del premio Scanno, giunto all'edizione numero 44. Chiudiamo le prime pagine regionali andando a vedere la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo, che non può che aprire con la questione scuole, che saranno aperte aspettando gli indici. Terminate le verifiche sulle 6 scuole più insicure, 3 riaprono, 2 con prescrizioni e una, invece, chiude. A Roseto degli Abruzzi, in alto, rispolverato, il piano nigro, il nuovo piano regolatore, sarà un ritorno al passato. La fotonotizia, incendi e regione costretta a chiedere aiuto al governo, è quello che si registra, è davvero, come leggete, uno stato di emergenza. Il vescovo Michele Seccia, di spalla, su Avvenire, nella Dioce, ci sono aumentate le richieste di esorcismo. In basso per la politica, i due paoli sondano il sindaco Brucchi, dimissioni per Roma o schianto sul bilancio per l'Aquila. In vibrata, alba adriatica, amianto, a due passi dai bambini. In basso per il calcio, pazzo ultimo giorno di mercato per il Teramo. La rosa è rinnovata, ma adesso è più sostenibile. Chiudiamo le pagine regionali per aprire quelle nazionali, partendo con il Corriere della Sera. Case occupate sono 49 mila. L'emergenza, il Presidente dell'Associazione Magistrati, non dobbiamo essere, toghe con l'eschimo. Più 20% in dieci anni, la circolare di Minniti, cabina di regia per gli sgomberi. A centropagina, mostra del cinema a Venezia, Jane Fonda a Venezia, Minna Morai di Robert, ovviamente Robert Redford. Ma le nuove regole sui vaccini, vaccini e scuola, una telefonata alla ASL per iscrivere i figli. Ci sono tensioni a Palermo. Cambiamo quotidiano, andiamo sulla Repubblica che affronta invece il problema scuola, anzi il problema università, più nello specifico raffica di ricorsi. Via il numero chiuso, i rettori, così si rischia il caos. Dopo lo stop del Tar a Milano e battaglia anche in altri Atenei. Dossier laureati solo a 27 anni, delude dunque la riforma del 3 più 2. E poi l'analisi, la scuola ai limiti della democrazia, peraltro, analisi di un professore che in Abruzzo, per dire la verità, nell'Ateneo di Teramo ha insegnato come Guido Krains. A centro pagina, questione vaccini, più facili le iscrizioni, in classe c'è l'autocertificazione. Sarà sufficiente inviare una mail. Ritorna la questione migranti, l'estrema destra rispolvera i manifesti di Salò. La stampa quotidiano di Torino, fedeli così accorcerò le medie. La ministra, inevitabile rivedere i cicli, l'Erasmus, può essere un progetto esteso anche alle scuole superiori. Sui vaccini circolare governativa, alla vigilia della ripresa dell'anno scolastico, per l'iscrizione basta l'autocertificazione. Poi per la politica, D'Alema, Gelo, Suppisapia, Minniti, solo un tecnico, adesso serve la politica. La fotonotizia, a Calcutta, tra i volontari di Madre Teresa, vent'anni fa moriva la suora proclamata santa nel 2016. Ecco come sopravvive il suo esempio. Andiamo sul sole 24 ore quotidiano economico e che dunque cambia l'apertura del giornale. Il super euro non fa paura, conta di più la ripresa, rallenta l'occupazione degli Stati Uniti, solo 156 mila posti in agosto. Per manager e imprenditori il rafforzamento della moneta unica è destinato a continuare. E poi per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni, Mediaset e Fininvest chiedono 3 miliardi di danni a Vivandì. Nel mirino la tentata scalata e la seconda richiesta dopo no su premium. Il messaggero, ma ovviamente l'edizione nazionale, sgomberi, la regia passa al viminale, la stretta delle nuove regole, cabina con ministero, comuni e regioni, interventi più rapidi. Intesa tra il sindaco Raggi e il ministro Minniti, il sindaco dice servono caserme e sgravi fiscali per l'emergenza abitativa. In alto, questa sera a proposito di sport, c'è in campo la nazionale in una partita importantissima contro la Spagna, che vale l'accesso ai prossimi mondiali, al Bernabeu per un'impresa mondiale. E la foto del commissario tecnico Giampiero Ventura. Poi scendiamo il sondaggio SGV, occupazioni, oltre l'80% degli italiani dice no e vuole l'immediata liberazione dei palazzi. Per i trasporti a Roma serve un cambio di rotta, Atac, il Campidoglio, chiede il concordato, ma non risolve il dissesto della società. Si torna a parlare di vaccini, basta solo l'autocertificazione per iscriversi a scuola, è sufficiente la prenotazione della profilassi, gli elenchi degli iscritti alle ASL per i controlli. E poi, una brutta notizia, Colombo decapitato negli Stati Uniti, l'ultima guerra dei neoselvaggi, ancora sfregia le statue del navigatore, l'indignazione dell'Italia. Vedete la statua con la testa che è stata decapitata di Cristoforo Colombo. Insomma, un insulto alla storia, il tempo quotidiano di Roma, spezzategli le braccia, rimosso, trasferito il funzionario di polizia che nel video si rivolge ai colleghi bersagliati dalle pietre, preso immigrato di Curtatone, spacciava droga. A termini extracomunitari, offrisce due agenti, un po' un pastone in tutto quello che riguarda le tensioni e le questioni che riguardano i migranti. Come vedete, un riassunto in un titolo e catenaccio molto elaborato. Letture del Corano, questa è la fotonotizia, in tante piazze e parchi italiani, a Roma la preghiera affidata ai baby imam e scoppia la polemica. Come vedete c'è anche un titolo che riassume questa notizia, in ginocchio. Poi, giù le mani da Colombo e il Papa Parli, Quilici difende la statua di Balbo, in basso l'Atac si salva ma rischia il comune. Cambiamo quotidiano, andiamo sul fatto quotidiano. Vediamo il titolo centrale, mentre condannavano Dell'Utri, Renzi riscriveva la carta con Berlusconi. Di Matteo, il PM alla Versigliana, processo trattativa delegittimato da Napolitano. In alto, Boschi nomina al CNEL, chi voleva cancellarlo, chi non muore e si risiede, l'ente inutile della discordia. E poi, il MIBACT, nuova dirigente, dava incarichi al partner Franceschini, Di Francesco nominata segretario generale. Come vedete, è molta più politica all'interno del quotidiano Il Fatto, quotidiano appunto. Poi, a centropagina, De Caro, Dell'Anci, tassare i manager nominati dal PD è vera estorsione. Poi, prevenzione zero, niente forestale ed errori a catena. Come vedete, l'Abruzzo va in cenere. C'è un richiamo nazionale anche alle questioni che riguardano la nostra regione, così imperversata, purtroppo dalle fiamme. L'avvenire. Leggiamo il titolo. Con la terra ferita soffrono i poveri. L'appello del Papa e del Patriarca Bartolomeo. Messaggio per la giornata del creato. Il richiamo ai potenti, la soluzione alla crisi ecologica, solo da una risposta concertata. E che sia, ovviamente, collettiva. Il manifesto, murati dentro, questo è il titolo, ed è riguardo alla cronaca, la politica e la cronaca statunitense, il presidente Trump ha deciso, scelte le quattro aziende che costruiranno la barriera storica tra Stati Uniti e Messico, un modello globale di esclusione contro i migranti. Avranno contratti di mezzo milione di dollari l'uno. Al vaglio i prototipi del Megamuro. Scontro per ora solo sul budget, con il congresso. Leggiamo le principali notizie. Roma, emergenza abitativa, ordine e speculazione. Il codice, raggi miniti contro gli abusivi per rilanciare il mercato. Come vedete anche qui la questione vaccini. Per l'iscrizione al nido e alla scuola è sufficiente l'autocertificazione. Libero, il papa e lo strizza cervelli. Anche Bergoglio è un uomo qualunque. Il santo padre si confessa in un libro intervista, è in stato di analisi da un ebrea e si è fatto spiegare il mondo da una comunista, la donna più importante della sua vita. Sferzata all'Islam, per evolvere deve smettere di seguire alla lettera il Corano. E poi, il ritiro dell'ex premier Enrico Letta lascia la politica. Peggio per lui, scrive Franco Bechis. Meglio per noi. La verità. Tutte le balle che si bevono i giudici per dare il permesso ai clandestini. I veri profughi sono pochissimi, scrive il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Le commissioni bocciano, leggiamo, la maggior parte delle richieste d'asilo, ma poi la quasi totalità dei ricorsi viene accolta in tribunale. Le motivazioni? Le più risibili. Da mio zio mi detesta a mio padre è diventato cieco. La fotonotizia sorpresa. Bergoglio si confessava da una psicoanalista ebrea e il titolo è Papa Freud. Scendiamo in pagina. Si torna a parlare di vaccini, di Iktat sui vaccini, ma l'antitetano non c'è. Monodose introvabili in farmacia. È per le scuole costretto a intervenire il garante della privacy. Poi l'intervista con Mara Carfagna per la politica, candidata premier del centrodestra. Farò quello che mi chiede la squadra. Intervista di Luca Telese. E poi in basso il prof anti-euro, primo condannato per un tweet. Alberto Bagnai dovrà risarcire un giornalista. Leggiamo anche rapidamente perché il professore anti-euro Alberto Bagnai è il primo condannato in Italia per aver pubblicato alcuni tweet ritenuti diffamatori nei confronti di un giornalista. Il secolo XIX ridurrò le medie da tre anni a due. Intervista alla ministra Fedeli. Cicli scolastici da rivedere. Vaccinazioni per le iscrizioni. Basta la copia della prenotazione. E chiudiamo con il mattino. Invece quotidiano partenopeo. Di Napoli. Busse e nidi. Il sud perde ancora. Lanci. Chi è più ricco come Milano riceve di più. E il divario. Ovviamente non può che crescere. Le regole del federalismo fiscale non cambiano. Ignorato. Il Parlamento. E poi. Tra. Come vedete. Da una parte. Oggi Spagna-Italia. Assalto alla Spagna. Insigne. Ovviamente. Essendo quotidiano di Napoli. Il mattino non può che dare il focus al giocatore del Napoli. Insigne in prima linea. L'indagine. Tardiva. Tra virgolette. Invece. Le follie per Neymar. L'UEFA. Ora se ne accorge. Mercato pazzesco. Quello del Paris Saint-Germain. Che ha preso Neymar prima. Mbappé poi. E adesso c'è un'indagine. Proprio da parte dell'organismo del calcio europeo. Il caso invece. Dramma dell'abbandono a Torre del Greco. Disabile quindicenne. Segregata. Pensate. Tra i rifiuti. Il caso scoperto dopo le proteste dei vicini. Per il cattivo odore. La ragazza. Ora è in una casa famiglia. Adesso apriamo per la pagina dello sport. Per vedere le prime dei quotidiani nazionali. Come vedete alle mie spalle c'è la gazzetta dello sport. E il titolo è emblematico. Ovviamente. Ed è Ole Azzurri. Leggiamo anche ostacolo Bernabeu. Sulla strada di Russia 2018. In casa della Roca non vinciamo. Pensate da 68 anni. Ma non si deve aver paura. Chiellini e K.O. Ventura tentato dal 4-2-4 con Candreva Belotti. Immobile e Insigne. Allora andiamo a vedere. Quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Italia. Questo 4-2-4 che sarebbe molto spregiudicato al Santiago Bernabeu di Madrid. Con Buffon tra i pali. E poi Darmian, Barzagli, Bonucci e Spinazzola in difesa. De Rossi e il nostro Marco Verratti a centrocampo. E poi le due ali. Candreva e Insigne con Belotti e Immobile a cercare di far male ad una Spagna che come vedete si basa molto e non potrebbe essere altrimenti sul blocco. Barcellona, Real Madrid con Iniesta, Isco, Giordialba, Sergio Ramos, Piquet, Busquets, Carvajal. Insomma sono tantissimi. E poi ovviamente sulla partita Spagna-Italia ci sono all'interno delle interviste, delle testimonianze. Le interviste, sacchi, attenti. Erano solisti e adesso sono una squadra. Ronaldo che dice Buffon, vero fenomeno. Le testimonianze, Prati, Del Piero, Tardelli e compagni. Noi che a Madrid abbiamo firmato grandi imprese. Non solo calcio, cultura, storia, economia e cibo. Un derby infinito, o meglio il jamon o il prosciutto. Ovviamente noi non abbiamo assolutamente nessun tipo di dubbio. Il Corriere dello Sport. Furie azzurre con questa crasi tra furie rosse. e speriamo diventino davvero furie azzurre. Italia d'attacco al Bernabeu con la Spagna. Ci giochiamo il Mondiale. Obbligati a vincere alle 20.45. Ventura, Schiera, Belotti, Insigne, Immobile e Candreva. Chiellini, K.O., gli eroi dell'82. Dicono conquistate Madrid. In alto invece parliamo di motori, moto. Tutti con Valentino Rossi che non molla. Dice torno il 15 ottobre. Operazione ok dopo l'incidente. che ha avuto qualche giorno fa valanga di auguri la visita anche del presidente del CONI. Malagò. Ma dopo le moto, dopo le due ruote, anche le quattro ruote. Perché questo è il weekend di Monza per la Formula 1. Sfida Ferrari, Vettel, Hamilton. Un duello sul filo. Le Mercedes sono avanti. Ma Seb crede alla pole position. Ovviamente oggi pomeriggio l'assalto alla prima fila. In basso, anche se c'è la sosta per le nazionali, si torna a parlare comunque di calcio di club. La Juventus, Iguain, vuole segnare anche al suo ct. San Paoli non lo ha convocato. Il Pipita pronto a farlo ricredere, ovviamente con la nazionale argentina. Napoli, Unassi. Il talento soffiato alla corte di Mu. Dalla stima di Sarri al debutto nell'Algeria. Che scalata. E poi la Roma, Florenzi e Schick. La festa è per loro. Ieri sera partita amichevole contro la Sciapecoense. Che è stata qualche mese fa davvero duramente colpita da una tragedia. E poi in Serie B l'anticipo Palermo senza otto nazionali. L'esame a Brescia. Rosa Nero in piena emergenza assente anche Nestorowski. Chiudiamo con Tutto Sport. Anche qui gioco di parole. Ore 20.45 Spagna-Italia. Alziamo la cresta. Ovviamente la cresta quella del Gallo Belotti. Belotti con Immobile per vincere al Bernabeu e prenotare la qualificazione al Mondiale. Buffon dice servono carattere e anche un po' di follia. Machiellini finisce KO e allora Ventura dovrà farne a meno il difensore della Juventus. In alto a proposito di Juventus. Mercato da Champions attacco ad altezza Real. Per il Torino invece reduce da un grande mercato. Mijailovic vede l'Europa. Cairo sogni di gloria. In basso una notizia che riguarda il ciclismo. Giro 2018. L'anticipazione. Il via sarà a Gerusalemme. Ci fermiamo per la pubblicità. La prima parte finisce qui. Adesso le previsioni del meteo. Poi quando rientreremo, entreremo all'interno dei nostri giornali. A tra poco. Eccoci rientrati. Seconda parte di Mattino 6. Siamo pronti per leggere le principali notizie dei quotidiani di casa nostra. Partiamo con il centro e con la questione incendi. Vedete anche già dal titolo che è un Abruzzo purtroppo che è in fiamme. Roghi, stato di emergenza. Chiesti 370 milioni di danni. Alberi, aziende, allevamenti e strade distrutti. Parte la richiesta a Gentiloni. Ci sono anche i danni degli incendi in cifre. Danni diretti sui boschi 84 milioni. Danni diretti 36 milioni. Danni indiretti 250 milioni. Spese sostenute 965 mila euro. Come vedete il conto è presto fatto. Basta una semplice addizione. Dall'altra parte, i lavori, nell'altra pagina, come vedete, i lavori sono già partiti. Il sindaco anticipa tutti e libera le strade dai tronchi caduti. Galli, primo cittadino di popoli. Manda le ruspe sul morrone, gli ambientalisti al procuratore Bellelli. Indaghi sui ritardi. Vediamo anche in basso. Ci sono le reazioni, per esempio, di Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle. Speculazioni sul rimboschimento. E Bracco presenta una interpellanza. Oggi in piazza a Pescara le associazioni ambientaliste per gridare basta roghi. A Pescara manifestazione per l'appunto in piazza Sacro Cuore. Ma come vedrete anche sul messaggero, l'apertura non può che riguardare sempre la questione incendi la regione Abruzzo colpito da una vera e propria calamità naturale nella richiesta di emergenza nazionale. Leggiamo. Sono elencati 200 incendi in un solo mese. Ora Palazzo Chigi può nominare un commissario per valutare i danni. E saranno certamente molto, molto elevati. Intanto le lingue di fuoco continuano ad avanzare in direzione Rocca Casale. Questo è quello che leggiamo. E come vedete un militare nella foto in azione contro gli incendi. Le cause dei roghi. Parla Mazzocca che tra un po' ascolteremo. Non solo i PM. Dobbiamo capire tutti. Soprattutto il tema della genesi di questi roghi. E allora proprio sulla questione incendi andiamoci a vedere il servizio della nostra redazione. Sottosegretario Mazzocca, emergenza incendi nella nostra regione. Situazione al momento stazionaria anche se si aspetta la pioggia sperando che possano calare anche le temperature. In alcune parti dell'Abruzzo la pioggia è già arrivata come in Marsica. E quindi sul fronte degli incendi ancora attivi lì, tipo quello di Luco di Marsi, dovrebbe migliorare sensibilmente la situazione. Mentre invece sul Morrone, quest'oggi, in aggiunta ai due canadi che hanno operato e stanno operando stamattina, nel pomeriggio dovrebbero arrivare altri tre, più l'elicoltaro Ericsson e quindi credo che oggi possa definirsi la giornata cruciale per l'incendio sul Morrone. Quella sul Morrone resta comunque una situazione molto difficile e complicata. Sì, più complicata di quella del Gran Sasso e credo che il tema della genesi di questi incendi che ormai stanno devastando l'Italia e quindi anche l'Abruzzo vada adeguatamente approfondito non solo da parte dell'autorità giudiziaria ma anche da parte nostra per capire un po' quali sono state le motivazioni che hanno scatenato questa tragedia. Nelle ultime ore sono tornati anche degli incendi in provincia di Pescara? Sì, però è una situazione tipica di tutta l'Abruzzo, non è che si discosta questa provincia dall'altra. Ripeto, la situazione che non è nemmeno più definibile, eccezionale, è una situazione che genera, proprio sulla luce, alla luce del fatto che la stragrande maggioranza di questi incendi hanno un'origine dolosa, genera evidentemente da motivazioni che dobbiamo ancora approfondire. Adesso entriamo sulle pagine di Pescara, parlando di case, case a rischio, controlli in sei palazzi a San Donato, sicurezza Ater. Dopo gli sgomberi a Rancitelli, nuovi accertamenti sulla vulnerabilità sismica di questi edifici. E, come vedete, fondi dalla regione, 5 milioni saranno destinati proprio a sistemare i quartieri. Oltre a dover fronteggiare, leggete nell'attacco del pezzo, l'emergenza legata allo sgombero di tre palazzi in via Lago di Borgiano. L'Ater si sta occupando anche di altro. È sempre a Pescara, è sempre sulla sicurezza case. Gli sgomberati di Rancitelli dicono subito un alloggio o occuperemo l'aula del Consiglio. Protesta in comune degli inquilini ospitati negli alberghi. Non ce la facciamo più. A fine mese, pronte 43 abitazioni. E in via Lago di Borgiano, presto, ci sarà una recinzione. Delimiterà le strutture con una recinzione che interesserà i porticati, si legge. La protesta invece, sempre a proposito di case, dei coniugi di Alanno. Teodoro incontrerà la coppia che vive in tenda dal 9 giugno. Roberto Cucinotta e la moglie Alessandra Marsili che vivono in tenda. Come vedete l'emergenza a case in Abruzzo e soprattutto a Pescara c'è e come. Degrado in centro, sempre a Pescara. Aggredisce in strada una famiglia con bimbo. Ubriaca, molesta una coppia di turisti con il piccolo nel passeggino. I vigili urbani la rintracciano in un bar e poi successivamente la denunciano. Ancora cronaca, giovane ambulante del Gambia invece blocca i ladri nell'area di Risulte. ha fatto arrestare un 27enne in basso a piedi pagina, studenti in piazza Grue solamente a novembre. Blasioli, lavori nella nuova sede del Da Vinci, sono incompatibili con la sicurezza degli alunni. Gli allagamenti, sempre a Pescara. Fogne tappate in città, sentenza in chioda. L'Aca, l'ente condannato a risarcire una ditta di Viale Marconi che è stata invasa dall'acqua. Vediamo un po' l'impresa Sisofo, l'attività danneggiata dalle condotte invase per oltre la metà dal fango stagnante. Manutenzione assente. La difesa dell'azienda, temporali eccezionali, soltanto un caso fortuito. Ma la perizia di un esperto, invece, sconfessa questa tesi. In basso, roghi, non lasciate solo l'Abruzzo. Il sindaco di Bari decaro alla festa dell'unità. Il governo assista a questa regione martoriata. Festa dell'unità di Pescara, ovviamente. Cambiamo pagina. Area di risulta. Il progetto cancella 750 posti auto. Il centrodestra chiede alla regione una valutazione di impatto ambientale e annuncia una dura opposizione in consiglio contro parco e centro commerciale. E allora, proprio su questo argomento dell'area di risulta, anche in questo caso vediamo il servizio. Si parla di aree di risulta, delle osservazioni al comitato via. Antonelli, qual è la posizione del centrodestra? Fortemente critica perché, come evidenziamo nelle osservazioni che abbiamo presentato al comitato per la valutazione di impatto ambientale, manca completamente il progetto. Cioè, manca il presupposto su cui la legge fonda ogni ulteriore attività. Per cui la prima questione che poniamo al comitato è che tutta la documentazione debba essere in qualche modo rinviata al comune e che deve ricominciare da capo. Sostanzialmente riteniamo che Alessandrina e i suoi abbiano combinato l'ennesimo pasticcio amministrativo perché fanno fatica anche a leggere in modo chiaro e netto una norma che invece chiara e netta lo è. Qual è la proposta del centrodestra per la destinazione d'uso delle aree di risulta? Un problema di cui a Pescara si dibatte da decenni. Ma è evidente che quell'area ha una vocazione sicuramente di supporto, di sostegno al centro commerciale naturale. Noi abbiamo realizzato il Ponte Flaiano che ha la funzione di garantire un veloce transito delle auto verso il parcheggio centrale, quindi innanzitutto raddoppiare il numero dei posti a disposizione. In questo momento il progetto è del tutto insufficiente da questo punto di vista. E poi garantire una serie di funzioni pubbliche che in qualche modo facciano diventare quell'area il riferimento della città ma anche un biglietto da visita per tutti coloro i quali arrivano a Pescara. Ci pare che le idee progettuali buttate giù da Alessandrini e dalla sua amministrazione siano assolutamente insufficienti sotto ogni profilo. E come vedete anche sul quotidiano Il Messaggero c'è la questione aree di risulta e lo scontro sul progetto Parco e Piazza, parcheggi interrati e a Silos due palazzi a uso direzionale e commerciale. Firovia su Corso Vittorio. L'opposizione però dice meno posti auto e gestione per vent'anni a chi vince il bando, spese pubbliche e guadagni privati. E in un video le critiche dell'esponente di Forza Italia sospiri, follia, così si blocca la città. In basso, Clochard, il Comune intervenga, la morte della donna alla stazione ripropone il tema del disagio sociale. Qui troppi disperati, dicono da Trendevi. Cambiamo pagina ma restiamo a pescare, restiamo sul Messaggero. Agosto da record per l'aeroporto, il movimento passeggeri è cresciuto del 23%, con più 14% dall'inizio dell'anno e a oggi rispetto al 2016. Barcellona è la meta preferita nonostante l'attentato. Mistralair conferma Cagliari, Sicilia e Tirana per l'inverno. E Mattoscio, che dice il Presidente, funziona il piano di rilancio. A centro pagina, scuola, niente mensa, ai bambini morosi, Pignoli e Teodoro sollevano il caso. L'assessore Cuzzi apre la mediazione, ditta disponibile a risolvere. In basso, Valentinetti nomina nuovi parroci, messa con Don Pallini a Montesilvano. E poi l'Abruzzo e l'Europa come opportunità, alla festa dell'unità arriva anche Cozzolino. Torniamo adesso sulle colonne del centro per andare a Montesilvano. Lavoro e solidarietà, migranti, 15 assunzioni per curare l'assistenza. Bando del Comune per assistenti sociali, educatori e impiegati amministrativi. Il Sindaco, con l'adesione al progetto SPRAR, opportunità e meno extracomunitari. Di spalla, tra Montesilvano e Città Sant'Angelo, noi con Salvini, ponti a rischio, più fatti e meno passerelle. In basso, domani, la prima messa con l'Arcivescovo. Cambio nella chiesa di Sant'Antonio, arriva Don Ennando. Restiamo sempre in provincia di Pescara, ma anzi, nell'area metropolitana di Pescara, perché con Francavilla andiamo nella zona della provincia di Chieti. Comunque, andiamo a Francavilla. Vincoli sulla sirena, caso ancora aperto. Francavilla parla il Comitato. La sovrintendenza non si è mai espressa sugli aspetti architettonici e antropologici. E' sempre a Francavilla, meno bambini e più stranieri. Aumenta la popolazione anziana. Leonzio, di noi con Salvini, un bonus fino a 1.500 euro per le mamme. E vedete anche nello schema la popolazione di Francavilla, la composizione. A Rigopiano, torniamo sulla vicenda. A novembre, la bonifica delle macerie. Annuncio della regione, otto mesi dopo la tragedia. Lavori con procedure d'urgenza. D'Alfonso, vogliamo dare un futuro a Farindola. Investimenti anche per le strade. E oggi la protesta a penne. La catena umana per l'ospedale. San Massimo, a Torre dei Passeri, fuoco nella notte, 50 ettari in fumo, vegetazione distrutta, danni a un trattore, rete telefonica in tilt. Torniamo adesso sulle colonne del messaggero, anche qui per vedere quali sono le notizie dell'area metropolitana, dell'Interland di Pescara. Andiamo a Francavilla. Sirena Melilla porta il caso a Roma. Il deputato pescarese di Sinistra Italiana non si arrende. Interrogazione parlamentare sui costi della demolizione. L'onorevole Pannarale di Sinistra Italiana scrive al ministro Franceschini. Luciani, il primo cittadino di Francavilla. Azioni di chi si sente già in campagna elettorale. Andiamo a Montesilvano. Progetto migranti. Maragno, il primo cittadino. Nuove assunzioni grazie allo Sprar. Emergenza incendi anche qui che ritorna. 50 ettari a fuoco sul colle della Civetta. Bastaroghi a Pescara. Il sit-in del WWF. e le macerie dell'hotel Rigopiano. La bonifica sarà entro novembre, come abbiamo visto. In basso la cerimonia ha segnato a Davide Rondoni il premio Civitacuana di Poesia. E poi Fermenti d'Abruzzo al Marina. Cerratina canta l'Equipe 84. Andiamo all'Aquila adesso. Cambiamo provincia, scuola e ritorno sui banchi, ma i problemi sono irrisolti. Mancini dell'Aquila sicura. Inerzia sia della vecchia che della nuova giunta. I ragazzi tornano negli stessi plessi che non sono stati sottoposti alle verifiche. La cronaca? Incidente nel cantiere. Un giovane è gravissimo. In basso, fusione Amatua al traguardo entro giugno 2018. E per la Corte dei Conti, Asles, materiali senza gara, un problema ereditato. E stiamo all'Aquila. Ride nelle case. Rubata una pistola. Raffica di furti in via nuova. Uno dei colpi nell'abitazione di un vigile urbano donna a cui è stato preso il revolver. I residenti lamentano mancanza di sistemi di protezione, anche se la città è attualmente sorvegliata da 50 telecamere. Poi per il premio Scanno scelti i magnifici 5. In basso, sicurezza e scorporo alla Magneti Marelli. I sindacati accendono un faro sull'azienda. Timori che la ditta non rientri più nel core business sul Mona, ovviamente. Poi a Tagliacozzo, minacce su Facebook. Quello che abbiamo letto anche prima. Quattro sotto processo per la frase. So dove abiti e arrivo che leggiamo distintamente. Torniamo. Adesso leggiamo l'Aquila, ma su Il Quotidiano, Il Centro. Eccola qua. Le notizie dell'Aquila. Negozi in crisi, tutta colpa del caro affitti. Viaggio nella città smarrita a quasi nove anni dal sisma. Centro storico in cerca di un rilancio che però non si vede. E i negozi, come vedete, sono in crisi e ci sono tutti i numeri della crisi. Cade nella tromba dell'ascensore grave. Incidente sul lavoro in un cantiere della ricostruzione. Aperta un'inchiesta da Ispettorato e dalla ASL. Andiamo a Chieti adesso, rimanendo sempre sul centro. Allarme furti in provincia, faccia a faccia con il ladro. L'inquilina lo fa arrestare. La donna, allertata all'alba dai rumori nell'appartamento, chiama subito i carabinieri. Il maivivente fugge e finge di aspettare l'autobus alla fermata. Ma la pattuglia lo cattura. E poi c'è la testimonianza del rettore Caputi. La mia casa derubata altre volte. Il rettore Caputi dopo il raid in villa si affida alle forze dell'ordine. Ma dice, fanno comunque il massimo. In basso, a vasto aggredito durante la rissa in discoteca, e a guardia grele nessuno porta in spalla la statua della Vergine. Ma la notizia principale della provincia di Chiesa è soprattutto l'emergenza idrica. L'acqua c'è, ma nel Vastese non arriva la Sasi. Sorgenti del verde ricche, ma il liquido si disperde nelle reti Colabrodo. Appello alla regione per il potabilizzatore. E allora, proprio sull'emergenza idrica nel Vastese, vediamo il servizio. Vertice in prefettura Chieti per fare il punto sull'emergenza idrica del Vastese. La situazione è sotto controllo, dicono Franco Amicone, commissario del Consorzio di Bonifica Sud, e Giuseppe Cellucci, amministratore di Arap Servizi. Il confronto è servito ad allestire un piano di misure eccezionali per far fronte ad eventuali nuove esigenze, con autobotti dalle vasche di Mozzagrogna per 115 viaggi. 72 carichi sarebbero necessari per la sola Pilkington di San Salvo, che altrimenti si troverebbe costretto a fermare la produzione. In estrema analisi, per uso potabile, è stato preventivato anche l'intervento dell'esercito. Sul fronte dell'agricoltura è stato detto al momento l'emergenza idrica non esiste. Riusciamo ancora a erogare, attraverso la disponibilità che convoglie il fiume, 160-170 litri secondo, e quindi questo ci permette di soddisfare quella che è la domanda dell'Arap per usi potabili e industriali. Le vasche gestite da Arap Servizi sono colme fino all'orlo, sono 62 mila metri cubi e ci consentono una certa autonomia se gestite in un determinato modo. Non bisogna tuttavia allarmare, in quanto la situazione è sotto il monitoraggio e il controllo dei vari organi interessati. Noi da sindaci, io da sindaco, chiederò e chiedo investimenti, ovvero chiedo il potenziamento della dica di Chiauci, chiedo che la provincia di Chieti si doti di un potabilizzatore che riesca finalmente a dotare la comunità vastese e le città del giusto fabbisogno idrico di cui necessite. Come vedete l'emergenza sulla rete idrica torna anche sul quotidiano Il Messaggero. Rete idrica interventi da 8 milioni. Il presidente della Sasi respinge le accuse di immobilismo, i problemi dove non sono stati fatti investimenti. Vedi a vasto. In conferenza basterebbe, chiama in causa l'operato dei comuni. La soluzione definitiva dice servono oltre 25 milioni, ma ovviamente non ci sono. In basso, sempre per rimanere nelle pagine della provincia, di Chieti, ma scendendo al vasto cittadino insegue il ladro e lo fa arrestare dagli agenti. A Fossa Cesia, droga nel bar, arrestato il gestore. Operazione della polizia, trovati a Cisce e Mariuana. Denunciata la convivente. Andiamo adesso in provincia di Teramo. Le scuole chiude la fornacicona, gli studenti al Forti e al Pascal. Spostati negli istituti superiori, leggiamo. Spostati negli istituti superiori, 116 allievi. Gli altri plessi ripartono senza doppi turni. Il risorgimento riaprirà tra circa un mese. Intanto i ragazzi vanno al parco della scienza. E poi, il bilancio della stagione turistica. Un buon recupero in basso per la politica. Caos giunta. Dimissioni il 15 settembre. Il sindaco Brucchi dice, ci sto pensando. Andiamo a Giulianova, comune. La rivoluzione di ottobre. In vista delle probabili dimissioni di Mastromauro, si registra una serie di passaggi della sinistra storica e dal PD al centro-destra. Nella riunione di Giulianova, anche l'imprenditore Lanciotti, il pittore e scultore Roberto Macellaro, e il custode dello stadio Fadini. A Giulianova ci sono i soldi per effettuare il recupero del relitto dell'Egliana. In basso a Roseto, parcheggio a pagamento, arriva il primo bilancio. In Val Vibrata, sicurezza nelle scuole. Tanti i lavori da fare. Ad Alba Adriatica, davvero a fondo pagina, multe boom. Il sindaco elogia gli stagionali. Torniamo adesso sul... Vediamo a Teramo come tratta la questione scuole. Il centro chiude solo la Fornacicona, San Berardo e Molinari. Un ok a metà. E questa è la decisione del Comune dopo le nuove verifiche. I 170 alunni trasferiti al Pascale e al Forti. Gli altri due plessi devono svuotare i piani alti. Slitta la riapertura del risorgimento per i collaudi. In basso, l'osservatorio astronomico raddoppia la struttura di Colluragno, unificata a Campo Imperatore. L'11 inaugurazione con il Ministro Fedeli. Ma a questo punto, visto che siamo in provincia di Teramo e stiamo parlando di scuole, vediamo come la questione scuole sicure viene trattato da un quotidiano prettamente della provincia di Teramo come la città. Le scuole riapriranno aspettando gli indici, completate le verifiche bis. Sei scuole meno sicure. Tre riaprono, due con prescrizione e una chiude. Allora vediamo con i colori dei semafori. semaforo verde per De Jacobis, per San Giorgio, Piano della Lenta. Semaforo giallo per San Berardo, Molinari. E poi, come vedete, semaforo rosso per Fornaci-Kona. Questi sono gli indici delle scuole. E rimaniamo a Teramo città perché, per parlare di politica, i Paoli sondano le intenzioni di Brucchi, dimissioni anticipate per il Parlamento o schianto sul bilancio per la Regione. I Paoli sono Paolo Tancredi e Paolo Gatti, che vedete nelle rispettive foto. Le parole di Monsignor Michele Seccia nelle diocesi dice che aumentano le richieste di esorcismo. Il Vescovo Seccia è intervistato da Venire, ridimensiona però l'allarme sul satanismo nel Teramano. Andiamo avanti a Giulianova. L'assessore spegne la polemica del FAND. Nessuna irregolarità nel nuovo affidamento del Lido a misura di disabili. E rimanendo sempre a Giulianova, chi abita vicino alla scuola non avrà diritto allo scuolabus per la cronaca. Anziano in bici travolto da un'auto all'incrocio di via Taonde-Revel. Andiamo a Roseto. Prima di passare allo sport, piano regolatore. Il nuovo PRG sarà un ritorno al passato. L'annuncio del sindaco di Girolamo rispolverato e il piano nigro cancellato dall'amministrazione Pavone. Adesso apriamo la pagina dello sport. Lo facciamo con il Pescara tra mercato e futuro. Come leggiamo, il presidente Sebastiani che parla è il miglior Pescara possibile ma non è favorito per la Serie A. Tutti cercano le plusvalenze. Senza di quelle e il paracadute non avremo una rosa che costerà 11 milioni di stipendi. Leggiamo altre parole del presidente del Pescara. Palermo, Empoli e Bari sono in pole position e poi ci siamo noi e un gruppo di altre squadre. Qualcuno voleva Zampano per il mercato e Benalì in prestito secco ma ha sbagliato. Indirizzo e per il giovane Delicarri a Torino sarà derby in famiglia. La mamma, tifosa Granata, il papà Daniele Extoro e lui Filippo nella primavera della Juventus. Questo sarà davvero uno scontro interessante quando il giovane Delicarri sarà davvero bianconero a tutti gli effetti. Domani alle 20.30 Zeman senza Capone e Mancuso. Perugia, Outbrighi, Frick e Cerri. Queste sono le ultime di formazione per Perugia e Pescara. E a proposito della partita il doppio ex Gianluca Colonnello analizza un po' la gara che vedremo domani sera. Presto per le sentenze ma il Delfino è da vertice. Lo psicologo Pietro Literio, Zeman e la sostenibile pesantezza dell'essere vincenti. Andiamo avanti, parliamo di Serie C poi cambieremo giornale. Il Teramo che domani si riposa osserverà il turno di riposo. Campitelli che dice Repetto, mercato ottimo. Il patrono soffoca i mal di pancia e si complimenta con il direttore sportivo. Vediamo anche sul messaggero come vengono affrontate le pagine di Sport. ripartendo dal Pescara anche qui parla Colonnello che show al curi il pronostico del doppio ex tra Perugia e Pescara ha una sfida senza calcoli che potrà offrire gole e spettacolo. Biancazzurri da vertice insieme a Palermo e Parma. L'organico ha giovani di talento ma io punto su Mancuso. E poi per il mercato anche qui parla il presidente Sebastiani Io e Zeman che siamo soddisfatti da quello che è arrivato in bianco-azzurro. Lavoro differenziato per Leonardo Mancuso che come abbiamo visto potrebbe essere in dubbio. Basket in fondo pagina Roseto e Darrell Comse il nuovo straniero sono un guerriero felice di indossare la maglia che è stata di un campione come Abdul Rauf. Anche qui torniamo in Serie C Campitelli soddisfatto Teramo va bene così è stato un mercato difficile condizionato dalla necessità di sfoltire la rosa. Ripeto, un grande professionista. Botta e risposta a distanza con Sanzovini. Vediamo anche qualche notizia di Serie D L'Aquila per l'attacco preso Ibe è un po' più pronunciabile altrimenti sarebbe Cinae Cerem e la giovane punta nigeriana arriva dalla Cremonese praticamente impronunciabile. Avezzano invece arrivano Sbarrella e Verruschi e a Pineto Amaolo dice un mese per capire davvero chi siamo. A proposito di Serie D il pronostico di un allenatore che adesso allena la primavera del Pescara ma ha allenato in Serie D fino all'anno scorso Massimo Epifani vincerà un abruzzese dice Avezzano con un attacco super l'Aquila e Vasto sono forti occhio al Francavilla i derby affascinanti ma sono un rischio. Vediamo le altre notizie l'ottimismo a Giulianova del presidente Bartolini che dice il Giulianova è assolutamente competitivo per il campionato di eccellenza e poi sull'altro cambiamo sport volley a due si è cortona convincente nel primo test contro Foligno per il rugby Morelli difficile l'accordo tra i club con questa notizia noi chiudiamo la rassegna stampa di mattino 6 che ovviamente domani non ci sarà ma torna lunedì puntuale alle ore 8 io vi ricordo l'appuntamento invece con il TG6 alle ore 14 è tutto buona giornata e poi Grazie a tutti.